lì non si muove guarda come fa girare il naso che spettacolo lì sta finendo il tempo dovresti prenderlo che cammina come il giaguaro è solo che non va non va dai fermo eh Polinca spettacolo guarda come tiene la coda forse ha visto quello sopra non va dai due minuti e tre che sta camminando da lì non va dai non va dai non va dai non va dai